allora buon pomeriggio da Italia Azzurro 4 a Victor Cadexierra vinco quasi sempre e quasi che mi frega per festeggiare il mio genetriaco attivazione solta Montepelpi Italia Eco Romeo 309 se non ricordo male mancano un paio di chilometri alla vetta ci sentiamo dopo ciao 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 il setup è diverso dal solito niente di polo antena verticale esattamente un quarto d'onda che è lo stilo della MFJ con 5 radiali che non è altro che la coppia ritorta dei cavi Ethernet e va molto bene abbastanza rigido come ho detto l'antenna 5 metri c'è un quarto d'onda e un po' di cavo RG58 anche troppo ma più corto non lo avevo effettivamente basterebbe anche un metro di cavo per collegarla all'apparato piaccevo le sorprese devo ricredermi sulla verticale però ovviamente è un'antenna accordata non ho l'accordatore ho lavorato un po' sulla lunghezza dello stilo ma ross SWR 1.15 e impedenza 47 ohm direi che è perfetto va benissimo di meglio non posso chiedere soprattutto sulla parte alta della banda mi trovo sul Monte Pelpi Italia Ecoromeo 309 sono a circa una decina di metri dalla croce del Monte Pelpi il Sota riporta come vetta spostata più a un centinaio di metri però il punto più alto secondo l'Igm è questo quindi io tengo buono questo soprattutto perché là in fondo adesso salgo piano piano ok là in fondo abbiamo degli impianti di diffusione per i 5 GHz e i 10 GHz dei ponti radio e poi un emittente broadcast ovviamente Radio Maria piacevoli sorprese come dicevo in banda 20 metri gli Stati Uniti ben difficilmente mi sono capitati in attivazione Sota e devo prendere atto che quello che diceva il buon Claudio Italia Azul 5 Giulietta e Lima Foxtrot corrisponde perfettamente al vero ma anche di colo eh due che la mattina presto fanno sempre l'Australia ma è un'antenna col capri e a seguire i QSO anche se li ho già fatti Siku Sota Siku Sota Siku Sota Siku Sota Italy Zulu for Victor Quebec Sierra Italy Zulu for Victor Quebec Sierra Siku Sota Oscar Ontario Napoli 7 Zulu Milano Zulu Milano avanti grazie buona serata Ontario Napoli 7 Zulu Mike Roger Oscar November 7 Zulu Mike 5-9 QSL Victor India over Roger 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 my friend 3 Zulu 9 Victor India 5-9 your report 5-9 your report QSL my friend back to you yes QSL thank you for 5-9 73 good luck 73 my friend bye bye Alpha Foxtrot India 2-4 Alpha Foxtrot India Alpha Foxtrot India over yeah Germany 4 2-4 Alpha Foxtrot India 5-6 56 over Roger Roger Germany 4 Alpha Foxtrot India 5-9 your report my friend back to you so okay the 5-9 thank you the 5-9 all the best Sunday 3-4 by sugar 5-9 Alfa Mexico Hotel Roger Sugar Papa 9 Alfa Messica Hotel Roger Sugar Papa 9 Alfa Mexico Hotel 5-9 5-9 back to you yeah sugar Pappa 9 Alpha chili Block Alpha 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 Southeast Virginia 5-5 5-5 questo yeah Cuer S killed qu optimize my friend thank you QP station thank you bye bye 73 play golf zero over roger golf whisky zero papa lima papa five nine plus five nine plus quesce allora avanti il collega italia tango 9 perfetto italia tango 9 sierra mike uniforme 59 più più qsl sierra victor chiu over roger roger sierra victor chiu hotel japan whisky five nine thank you my friend back to you roger eco alpha one alpha alpha papa is correct eco alpha one alpha alpha papa your report is three 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 your report thank you my friend bye bye seventy three kilo eco papa over roger sierra papa six kilo eco papa five nine quesce thank you to you my friend bye bye seventy three quesce victor in the call roger eco alpha seven golf victor five nine quesce thank you my friend grazie a te ciao 73 eco lima eight over roger roger delta lima eight delta x-ray lima five nine quesce qs 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 i confirm your report five nine plus five nine plus thank you my friend bye bye 73 roger eco alpha two charlie kilowatt x-ray five nine my friend bye bye my friend bye bye oscar hotel over negative negative my friend oscar hotel complete your call roger oscar hotel 6 giuliette hotel is correct roger roger oscar hotel 6 japan yokohama onolulu thank you my friend bye bye 73 my friend quorzette november tango 2 alpha over roger roger please repeat your call repeat your call thank you portozio c'ha ragione con le verticali sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu for victor quebec sierra italy zulu for victor quebec sierra sicu sota sierra quebec 8 india juliet romeo sierra quebec 8 india juliet romeo is correct india zulu for victor quebec sierra to sugar queen 8 india juliet romeo 59 for you roger roger my friend your report is a 59 plus plus 59 plus plus thank you big signal thank you my friend thank you roger sierra victor 2 oscar x-ray sierra 59 qsl alessandro you are 5 and 6 56 thanks for the summit all the best 73 my friend thank you to you bye bye roger 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 è affermativo è praticamente ci vediamo a te il cambio nicola roger 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 ecco alfa 3 alfa romeo papà ecco alfa 3 alfa romeo papà ecco alfa 3 alfa romeo papà 5x5 in barcelona